Musica Benvenuti al TG6 L'Aquila di oggi. In apertura parliamo di disoccupazione. L'Europa infatti chiede alla Regione Abruzzo di fare di più. Oggi in Commissione regionale le raccomandazioni della Comunità Europea per il contrasto alla disoccupazione di lungo corso, ma anche una sperimentazione in cinque comuni abruzzesi del reddito minimo garantito. Ci spiega tutto Filippo Tronca. L'Abruzzo per essere Regione d'Europa deve fare di più per i disoccupati di lungo corso che sono più della metà dei senza lavoro, spesso in un'età anagrafica in cui è molto difficile ricollocarsi. A dirlo non sono i sindacati e la Commissione europea che il 17 settembre ha inviato una nota a tutte le regioni, Abruzzo compreso, ricordando che la disoccupazione di lungo corso è stata individuata dal Parlamento europeo nell'ambito della strategia Europa 2020 come uno dei principali ostacoli alla crescita. Chiedendo insomma di destinare alla soluzione di questo problema più fondi nell'ambito dei programmi europei e incrementare la formazione e le politiche di reinserimento. Oggi la comunicazione è stata esaminata dalla Quarta Commissione consigliare della Regione. A nostro microfono il Presidente Luciano Monticelli. È una risoluzione che portiamo in quanto sulle prossime future tavoli che ci saranno tra il Governo centrale e la Regione Abruzzo che ha di competenza i servizi per l'impiego dovranno attuarsi delle politiche giuste, io considero, che guardino con chi ha una lunga percorrenza di fattore non lavorativo. Questo perché genera problematiche all'interno della persona, della famiglia, ha dei costi sociali e sanitari anche alti. Quindi massima attenzione anche sulla programmazione europea e sui fondi che noi stiamo destinando con le FSE e di destinare una quota particolare impegnativa. Va nella stessa direzione la proposta di legge regionale, anch'essa all'esame delle commissioni, che intende sperimentare il reddito minimo garantito da 600 euro circa al mese nei comuni di Bussi sul Tirino, Castiglione a Casauria, Letto Manopello, Manopello e Tocco da Casauria in provincia di Pescara. È una richiesta fatta da cinque comuni, la Costituzione italiana riconosce che i comuni possono fare i provvedimenti di legge, chiedere alla regione Abruzzo, in questo caso, del reddito minimo garantito. La proposta di questi cinque comuni qual è? È quello di dare un contributo intorno alle 609 euro al mese, che hanno dei requisiti naturalmente, che non abbiano reddito. Poi ci sono delle varie scaglioni che se dovesse capitare, nel cui c'è un lavoratore che lavora, una famiglia, ci sono degli accorgimenti. E restiamo in regione. Abruzzo Civico si spacca. Si spacca questo gruppo consigliare all'emiciclo. Tutti i dettagli nel servizio che segue. Clamoroso all'emiciclo. I consiglieri regionali di Abruzzo Civico, Mario Olivieri e Andrea Gerosolimo, escono da Abruzzo Civico, assieme al coordinatore regionale Giulio Borrelli, perché oramai argomentano che la lista civica, nata a sostegno del presidente Luciano D'Alfonso, è monopolizzata nel suo direttivo dalla componente di scelta civica, a cominciare dal presidente, l'onorevole Giulio Sottanelli. Un corpo estraneo, conferma i nostri microfoni Olivieri, e inizia per noi una fase 2. E conferma, Olivieri, l'imminente ingresso nel gruppo consigliare, che cambierà nome, di o almeno un altro consigliere. Olivieri tiene la bocca cucita, ma dovrebbe trattarsi di Maurizio Di Nicola, centro democratico, presidente della prima commissione bilancio. Adesso Abruzzo Civico, per quanto ci riguarda, per il gruppo regionale, quindi parlo di Olivieri Gerosolimo, si sono dichiarati attraverso una conferenza stampa fuori da Abruzzo Civico per appunto dei dissapori con la direzione. Nascerà quindi una nuova formazione? Una nuova formazione, avremo una nuova realtà in regione Abruzzo, che può darsi che si rafforzi, abbiamo già delle trattative in corso, alcuni consiglieri regionali, può darsi che ne fossero anche più di una, c'è questa possibilità, adesso è ancora presto parlarne perché siamo in fase appunto evolutiva, quindi probabilmente, ma noi siamo già fuori, cioè Olivieri e Gerosolimo sono già fuori, Abruzzo Civico è superato, stiamo lavorando, abbiamo avviato un percorso che va oltre Abruzzo Civico, Abruzzo Civico fase 2 o qualcosa del genere. E ora parliamo del centro migranti al campus. Pizzoli dice no a Pizzoli, un comune a pochi chilometri dell'Aquila, esiste un campus universitario ancora da completare, che qualcuno vorrebbe destinare al centro di accoglienza per migranti e richiedenti asilo, un'ipotesi che però non piace all'amministrazione comunale. Ci racconta tutto Giorgio Alessandri. Il comune di Pizzoli dice no al centro di accoglienza per migranti e richiedenti asilo, negli spazi inizialmente pensati, per realizzare un campus universitario mai completato e in attesa di una destinazione definitiva. È una posizione netta quella del sindaco del comune, situato a pochi chilometri dall'Aquila, Gianni Anastasio, che con l'amministrazione sta individuando un percorso per destinare la struttura, dove solo due palazzine sono state realizzate. Nell'immediato post-sisma, attraverso una catena di solidarietà e l'impegno di un imprenditore che nel sisma del 2009 perse la figlia universitaria, iniziarono i lavori per la costruzione del campus. Un progetto da 5 milioni di euro che prevedeva la costruzione di diverse palazzine per 139 piccoli appartamenti, per un totale di 262 posti letto da destinare a studenti universitari. Nell'ottobre del 2010 un'inchiesta della Procura dell'Aquila bloccò i lavori e anche i 32 studenti che avevano preso possesso dagli alloggi furono costretti a cercare una nuova sistemazione. Il processo che ne seguì, che coinvolse amministratori e tecnici, imputati per una serie di reati legati a presunti abusi ambientali, edilizi e violazioni delle norme tecniche, si è concluso a maggio del 2010 con 10 assoluzioni con formula piena. Da quel momento si è tornati a pensare di cosa farne della struttura. I presupposti che portarono all'idea del campus, nato nel post terremoto, con un'emergenza abitativa per gli studenti universitari da tamponare, sembra quasi tramontata. Qualcuno ha lanciato l'ipotesi di un centro per migranti, ma l'idea non sembra essere piaciuta per nulla al sindaco di Pizzoli, dove già sono presenti diversi cittadini stranieri giunti proprio con progetti per l'accoglienza. Potrebbe anche succedere che magari l'intenzione sia quella di utilizzarla per questi profughi che comunque hanno bisogno di spazi e di ospitalità. Per quanto ci riguarda, io ho già detto in altre situazioni, lo ribadisco, Pizzoli è saturo perché noi abbiamo già qui più di una situazione che comunque si è venuta a creare negli ultimi mesi e che unita a tutti gli stranieri che Pizzoli già ospitava, ormai superiamo abbondantemente il 10% della popolazione, quindi non siamo più in grado di poter tenere sotto controllo anche per una questione di ordine pubblico queste cose. Rimaniamo nel popoloso comune di Pizzoli a parlare ancora una volta di Banca Etruria, perché ieri c'è stato un incontro a Roma tra il Comitato dei Risparmiatori di Banca Etruria di Pizzoli e i vertici della Consob. I cittadini chiedono il rimborso integrale dei risparmi e delle obbligazioni andate in fumo, come è noto ormai, dopo il decreto Salva Banche. Sentiamo. Sensibilizzare il sistema bancario affinché si faccia promotore di atti di rimborso volontari ai risparmiatori da non considerarsi agli utili Stato è la richiesta fatta ieri a Roma dal Comitato dei Risparmiatori di Pizzoli di Banca Etruria. Nel popoloso comune dell'Aquilano infatti sono più di mille risparmiatori che per effetto del decreto Salva Banche sono rimasti senza soldi. A Roma il portavoce dei risparmiatori di Pizzoli, Domenico Iannucci, ha incontrato il direttore generale della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, Consob Angelo Apponi, e il segretario generale Guido Stazzi, a margine della piccola protesta alla quale hanno partecipato centinaia di cittadini truffati. Il sistema bancario per Iannucci deve farsi carico dei rimborsi perché per loro si tratta di piccole cifre, per la gente invece sono i risparmi di una vita. I risparmiatori hanno parlato di truffa anche relativamente alle ultime obbligazioni del 2013 perché hanno detto se c'erano problemi la banca doveva essere corretta e dunque è mancata anche la comunicazione. Una lunga pagina dedicata alla cronaca. La Polizia di Stato ha denunciato un cittadino italiano di 39 anni per evasione dagli arresti domiciliari. L'uomo sta scontando dallo scorso mese di dicembre regime di detenzione domiciliare una condanna di sei mesi per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Nel pomeriggio del 7 gennaio, personale della squadra volante durante un controllo non ha trovato l'uomo in casa a Camarda. Lo stesso è stato rintracciato dopo poco tempo dalla pattuglia, non fornendo agli agenti delle giustificazioni plausibili alla sua assenza. Gli agenti hanno immediatamente ripristinato la misura restrittiva e l'uomo è stato denunciato all'autorità giudiziaria. Il presidente della fondazione Carispac, Marco Fanfani, è stato investito da un camion che trasportava una gru questa mattina che è fuggito senza prestare soccorso. Fanfani, che ha presentato regolarmente denuncia al comando di vigili urbani, era alla guida della sua automobile sulla strada statale 5 bis in direzione di Civita di Bagno, quando in prossimità di una curva è stato investito da un mezzo pesante che viaggiava in senso opposto. L'autista del mezzo, dopo essersi accorto di aver invaso la corsia, ha tentato di evitare l'auto senza riuscirci, colpendo la parte posteriore dell'auto di Fanfani. L'autista è poi fuggito, ma Fanfani è riuscito ad annotare qualche caratteristica del mezzo. Il presidente Fanfani è stato medicato al pronto soccorso e ne avrà per una ventina di giorni. E con l'accusa di omicidio colposo, tra i medici dell'ospedale di Avezzano, Giuseppe Ruggeri, Nando Di Renzo e Gabriele Abbottone sono stati rinviati a giudizio dal giudice per le udienze preliminari del Tribunale dell'Aquila per la morte di una neonata, avvenuta all'ospedale di Avezzano nel 2010. I medici di neonatologia e pediatria, rappresentati in giudizio dagli avvocati Mario Flammini, Franco Colucci e Antonio Milo, avevano posto la piccola di appena 48 ore di vita in un incubatrice a seguito di difficoltà respiratorie. In seguito alle condizioni della neonata, poi i tre hanno deciso di trasferirla a Chieti, dove però la bambina è morta per un collasso cardiaco. Secondo la procura, il trasferimento doveva essere effettuato prima. E ora parliamo di un bel progetto, si chiama Che Sto Smart, Pullman Smart per studenti e pendolari. Presentato oggi all'Aquila è il progetto che ha consentito a 18 autobus di tua di essere dotati di connessione internet. Sentiamo. Viaggiare e navigare nello stesso tempo su autobus intelligenti, sempre connessi alla rete, dove poter avere accesso all'internet veloce e dunque lavorare e fare formazione a distanza a costo zero. Un grande vantaggio per migliaia di pendolari nelle tratte L'Aquila-Avezzano e Pescara-L'Aquila, resi possibili dal progetto Che Sto, cofinanziato dalla Comunità Europea con i fondi del programma trasfrontaliero I Padriati, che in collaborazione con l'Albania, che su queste pratiche è all'avanguardia. Che Sto consentirà al regime di equipaggiare 18 mezzi della tua, la nuova società unica dei trasporti regionali. Oggi il progetto è stato illustrato nel polo universitario di Coppita all'Aquila, parcheggiato fuori uno degli autobus Smart già in servizio. Il tema è quello dell'incentivazione del trasporto pubblico e del fatto che il pendolarismo è una modalità di trasferimento che è sempre crescente e le previsioni fanno capire che crescerà ancora di più insepito. Noi qui viviamo in una posizione particolare, quella delle aree interne, l'Aquila è in qualche modo rappresentativa delle aree interne, che hanno la possibilità di offrire qualità della vita importante, potendo permettere ai lavoratori di pendolare, quindi spostarsi quotidianamente anche verso grandi centri, ad esempio Roma, ormai anche con la viabilità migliorata è una situazione sicuramente interessante. La rettrice Paolo Inverardi annuncia poi che grazie agli autobus Smart sarà possibile considerare il tempo di viaggio dei dipendenti pendolari dell'università come tempo produttivo di lavoro. L'idea è naturalmente di rendere fruibile o comunque produttivo il tempo di percorrenza sui mezzi pubblici ai fini della propria attività occupazionale, sia esso lavoro o studio. Quindi è più generale e anzi questo va anche nella direzione, noi in particolare come Università dell'Aquila abbiamo cominciato a lavorarci, di pensare di poter permettere di considerare come orario di lavoro per i dipendenti il tempo di percorrenza che si utilizza per raggiungere il posto di lavoro una volta che questo tipo di infrastrutture sono possibili. Calamità naturali e comunicazione, accordo Regione-Università di Teramo. Comunicare informazioni utili alla popolazione per fronteggiare l'emergenza in caso di calamità naturali è lo scopo del protocollo d'intesa che è stato sottoscritto tra la Regione Abruzzo e l'Università di Teramo. La sicurezza e la vita delle persone in caso di calamità naturali dipende anche da una buona comunicazione soprattutto preventiva e che possa supportare l'attività della protezione civile regionale. E' con questo spirito che all'Aquila il Presidente dell'Aggiunta regionale Luciano D'Alfonso e il Rettore dell'Università di Teramo Luciano D'Amico hanno firmato ieri un protocollo d'intesa che al centro ha proprio la redazione da parte dell'Ateneo di un piano di comunicazione utile a informare i cittadini su come fronteggiare un'emergenza ma anche per ottimizzare la comunicazione interna e dunque l'operato del sistema di protezione civile. E su questo stiamo lavorando già da molto come Università su impulso della Regione Abruzzo che ha ritenuto di coinvolgere tutti i cittadini in queste situazioni con un'attività di preparazione, un'attività di consapevolezza anche dei rischi e poi sottolineerei anche l'aspetto sulla comunicazione interna agli enti preposti ad assicurare la protezione civile dalla Regione e a tutti gli altri enti che intervengono per poter gestire le emergenze con efficacia e salvaguardando al massimo i cittadini. Fare in modo che quando si verifica il fatto eccezionale l'ordinamento pubblico venga trovato preparato. Su questo noi ci prepariamo, ci dedichiamo facendo sì che mai più veniamo colti di sorpresa anche nella parte comunicativa ma non solo nella comunicazione. Noi abbiamo visto per esempio che sul fronte comunicativo la mancanza di adeguatezza ha determinato anche l'intervento del diritto penale, giustamente, ha ragione. Noi però dobbiamo anche elevare la capacità di reazione quando si verifica un disastro. Non solo il sistema dell'allerta che è all'altezza, oggi noi abbiamo un sistema di organizzazione anche tecnologica che per allertare è quasi alla perfezione. Quando però si verifica il fatto drammatico, distruttivo di un evento straordinario prima non previsto o non prevedibile, che succede? Come riusciamo a fronteggiare? Con quale organizzazione graduata? Ecco questo io lo voglio rendere anche oggetto di specifica formazione. Questa sera non perdete su TV6 una nuova puntata di Palla Ovale la trasmissione dedicata al rugby condotta da Fabio Zena D'Occhio. L'appuntamento è alle ore 20 e 30. Ospiti studio il tecnico Ludovic Mercier e altri rappresentanti dell'Aquila Rugby e del Rugby. In esclusiva ci sarà anche l'intervista al nuovo tecnico della mischia Massimo Cutitta. Si tratta di un ritorno in neroverde per Cutitta che è stato ripreso in campo durante il suo primo allenamento. Con questa notizia termina il nostro telegiornale. Io vi ringrazio per averci seguito. Vi invito a rimanere su TV6 per la nostra programmazione. Arrivederci. Vi ringrazio per averci seguito.